Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Stefano Dorazio storico batterista dei Pù è morto, ecco le parole dell'amico Roby Facchinetti che spiegano la situazione. Lutto nel mondo della musica, è morto Stefano Dorazio storico batterista dei Pù, di seguito le parole dell'amico Roby Facchinetti. Leggi anche, è morto Stefano Dorazio, batterista dei Pù, i dettagli Stefano Dorazio è morto, le parole di Facchinetti il musicista e paroliere aveva 72 anni. Il mondo della musica è sotto shock. La notizia della morte è stata improvvisa e ha lasciato tutti molti scossi. Il primo ad annunciare la scomparsa è stato l'amico Bobo Craxi su Twitter. Roby Facchinetti da pochi minuti ha scritto un messaggio sull'amico Stefano Dorazio a nome di tutti i membri dei Pù confermando il grave lutto, anche Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme in diretta a tale e quale show hanno dato la notizia aggiungendo il possibile motivo del decesso, restate aggiornati con, non appena avremo ulteriori notizie ci premureremo di condividerle. Ci uniamo al dolore della famiglia. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!